Nuovi incentivi per la micro, piccola e media impresa abruzzese. Ad annunciarlo Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione e con delega allo sviluppo economico. Si tratta di un bando rivolto all'innovazione tecnologica di processo e organizzativa. Le imprese verranno agevolate da un contributo in conto capitale sulla spesa effettuata fino al 50%, per un minimo di 50.000 euro di investimento e un massimo di 200.000. Le spese effettuate sono calcolate dal 1 gennaio 2015. La somma messa a disposizione dalla Regione è di 8 milioni di euro. Di tutte le attività che queste imprese hanno fatto a partire da gennaio di quest'anno, quindi quelle anche già fatte fino alla fine dell'anno, che possono essere presentate come innovazione. È un rimborso, noi rimborsiamo fino al 50% in conto capitale, quindi soldi veri, cash diciamo, è un bando naturalmente, debbono rispondere. Ci sono alcune premialità riguardo i giovani, le donne, ma insomma è un bando di 8 milioni, quindi in dei minimi stiamo parlando di tanti soldi che possono realizzare obiettivi di tante imprese. Le tipologie di spesa comprendono macchinari, attrezzature, software e hardware, servizi di consulenza gestionale, tecnologica, acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how e perizie tecniche. È giusto fare così perché noi chi stiamo premiando? Stiamo premiando degli eroi, cioè quelli che in questi anni di crisi, in questi anni di accesso al credito che è diventato per le piccole imprese drammatiche, molta gente è sopravvissuta, è riuscita nonostante tutto spesso ricorrendo, anzi quasi sempre ricorrendo a proprie risorse personali, a mandare avanti la sua azienda. Ecco, noi distribuiamo 8 milioni di euro in Abruzzo a questo sistema di imprese, credo sia una cosa molto positiva e molto utile.